ed è arrivato il montatore c'è il montatore di tv il montatore di tv non pensate male ecco è arrivata la tv 75 pollice però non abbiamo il cacciavite non avevo voglia far vedere il fenomeno del mio uomo perché che stai facendo ho tolto una graffetta da casa quella è la scatola che è la graffetta per te mentre la faremo è arrivato il pezzo che tutti stavamo aspettando eccolo il bel materasso è comodissimo quindi ci siete alla ricerca anche voi di un materasso oh sì vieni qua molto contento il tuo rai della partita sta arrivando ti avviseremo quando sarà vicino e quindi che hai da dire quindi dobbiamo andare a inaugurare questa casa cosa? 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 che è qualcosa? cosa? 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 Grazie a tutti.